32.6 in dollo ed è quasi 37 in upload, un ottimo risultato. E se ti dicessi che puoi avere internet a casa a soli 10 euro? Ciao e bentornati dal vostro Loretech. Mi posso reputare una persona fortunata ad avere a casa una connessione a internet veramente incredibile. Team 10 gigabit, dalle velocità, devo dire, esagerate. Ma penso sempre alla mia community ed è per questo che ho deciso di portare quest'oggi un contenuto molto particolare. Come avere internet a casa a soli 10 euro. Lo sapevate che più del 90% di voi non è iscritto a questo canale? Per cui cosa aspetti? Iscriviti, attiva la campanellina per non perderti incredibili video. Qualche giorno fa sono stato alla Milan's Gaming Week, ho anche registrato un video dedicato. Se ve lo siete persi ve lo lascio qui sotto nei commenti. Ho avuto modo di conoscere gli amici di AWM, del brand di Fritzbox. Ho parlato del mio progettino di internet a soli 10 euro. Hanno creduto in me e hanno pensato di mandarmi... Per ogni unboxing che si rispetti, ci muriamo dalle nostre forbici e andiamo ad unboxare. Ciao, con questo piccolo regalo vogliamo darti il benvenuto nel mondo Fritz. Continuando, nuove connessioni, un catalogo di tutti i prodottini venduti da Fritz. Cominciamo con il primo, Fritzbox 6850 LTE Fritz Repeater 600. Vediamo cos'è il contenuto nella confezione. Fritzbox 6850 LTE, un router LTE 4G con possibilità di poter collegare il telefono. Funziona sia in UMTS che in 3G. Wi-Fi 5 fino a 866 MB più 400 MB, 4 porte Gigabit, possibilità di poter utilizzare l'applicazione per personalizzare le varie funzioni. Nella parte posteriore qui abbiamo un'anteprima del nostro router. Complete Home Networking, quindi tutto quello che possiamo fare con i prodottini di Fritz Notes. Qua abbiamo tutte le specifiche, le password, Quick Start Guide per la prima installazione. Qua abbiamo il nostro bel router che andremo a spellicolare. Le due antenne direzionali. Cavo di rete piatto. Sicuramente molto molto comodo. E la sua alimentazione. Ottimo il cavo angolare. Vi faccio vedere la parte frontale. Corpo in plastica. Si matcha con questa colorazione rossa. Ci sono questi fori che permettono di poter raffreddare il nostro router. Scritta Fritzbox. Qua abbiamo delle altre informazioni con dei led che si illumineranno. Per l'accensione, il VLAN, PhoneDect, la connessione VPS e altre info. Nella parte posteriore abbiamo i due connettori per l'antenna, il vano per la SIM. Qua possiamo andare a collegare un telefono. Quattro uscite gigabit. Alimentazione e l'altro connettore per l'antenna. Andiamo all'installazione. Andiamo ad avvitare le due antenne. Come scheda SIM andremo a utilizzare questa di TIM. L'abbiamo acceso. Attendiamo qualche minuto. Ho deciso di posizionarlo vicino alla finestra così da avere più segnale. Pian piano tutti i led si stanno accendendo. Come vedete ha già trovato la rete Fritzbox 6850 HD. Andiamo a cliccare. Inseriamo la password. Bene, si è connesso. Vi mostro l'interfaccia. Fritzbox 6850 LTE. Provider Team Mobile. Ci dà una velocità massima di 150 MB in download e 50 MB in upload. Rete Wi-Fi sia a 2.4 GHz che a 5 GHz. Informazioni LTE. Vediamo un attimo la distanza dalla cella. È all'incirca un 300 metri. Vediamo adesso con uno speed test come si comporta. Antenne 78 dB Antenna 1, Antenna 2 100 dB. Beh, sicuramente non è delle migliori. Siamo a 31 MB in download e un 17.4 in upload. Ritornando al sito poi ci sono diversi tipi di personalizzazioni. Come ad esempio poter scegliere il canale per migliorare il segnale. Se impostarlo a 2.4 GHz o a 5 GHz. Questa è veramente una cosa molto interessante. E per finire alla voce sistema aggiornamento possiamo verificare se sono presenti degli aggiornamenti. La versione corrente è la 7.57. Andiamo a cercare. È già aggiornato all'ultima versione. Per cui ottimo. Su aggiornamento automatico qui potete scegliere. Io vi consiglio comunque di abilitarlo. Il router è posizionato qui vicino alla finestra. Adesso lo porteremo all'esterno. E vediamo se ci sono dei miglioramenti. Posizionato all'esterno andiamo ai test. Eh ragazzi vedete c'è già una bella differenza. Eh sì il download è aumentato. Siamo quasi a 35 MB in upload. Siamo quasi a 16 MB. Ho spostato le due antenne verso destra. Beh ragazzi vi dirò. Siamo quasi a 35 MB in download e 38 MB in upload. Riposizionato nuovamente dentro casa e vicino alla finestra. Ho spostato le antenne da quel lato. Beh devo dire un ottimo risultato. Dovete comunque fare delle prove. Eseguire diversi speed test. E vedere in quale zona della casa prende meglio. Ragazzi ma i test non finiscono qui. Proveremo anche il mio iPad Air 2022 e il mio iPhone 15 Pro. Vediamo come si comportano. Connessi alla rete di Fritzbox. Beh ragazzi che dire. Niente niente male. Quasi 31 MB in download e quasi 37 MB in upload. Vediamo come si comporta. 32.6 MB in download e quasi 37 MB in upload. Un ottimo risultato. Adesso non mi manca che testarlo con lui. Il mio Mac Studio. Beh anche qui devo dire niente niente male. Quasi 30 MB in download e 26 MB in upload. Ragazzi vi do un piccolo aggiornamento. Vedete adesso anche la qualità del segnale migliorata. Antenna 1, antenna 2, 78 dB, 99. Siamo scesi drasticamente. È aumentata la qualità del segnale. Ma direi che è arrivato il momento di provare e fare dei test anche nelle altre aree della casa. Tipo ad esempio anche qui in soggiorno. Sì beh chiaramente la qualità del segnale diminuisce. Ma considerate che ci sono tantissimi muri tra il mio studio e il soggiorno con la linea internet di casa in Wi-Fi. Anche lì in quel caso la connessione calava drasticamente. Ma con lui si ha una buona copertura. Avviamo il test. 31 MB in download e 5 MB in upload. È arrivato adesso il momento di trarre le conclusioni. Come si comporta questo router di Fritzbox il 6850 LTE? Partiamo dalla qualità costruttiva. Devo dire ottima. Plastiche molto resistenti. Bella la colorazione bianca che nasconde eventuali graffi. La parte rossa ci sta a indicare il brand. In questo caso Fritzbox che usa questi due colori principali. Velocità e facilità nell'installazione. Una guida passo passo ci permette di installare il nostro router e in pochi minuti poter utilizzare la nostra rete internet. Il software è pieno di personalizzazioni. Ci dà dei valori che ci stanno a indicare come si comporta il nostro router, la qualità del segnale internet ed eventuali problemi. Parliamo adesso di connessioni. Nella parte posteriore ci sono 4 uscite LAN a 1 GB così da collegare diversi computer ed avere una connessione internet molto più stabile. Inoltre le antenne si possono rimuovere per fare un upgrade e migliorare ancora di più la qualità del segnale. Che dire, si comporta come un top di gamma nel suo settore ma non fatevi spaventare dal prezzo un pochettino più alto della concorrenza. Ma qui parliamo dell'eccellenza. Ho avuto modo di provarlo in questi giorni ininterrottamente o anche giocato in streaming senza nessun problema. Ma se volete più affidabilità vi ricordo comunque che potete cablarla alla vostra connessione utilizzando anche il cavo di rete presente in confezione. Adesso risponderemo alla domanda. È possibile avere una connessione internet a 10 euro? Beh, la risposta è sì. Non dovete fare altro che acquistare un router come lui, LTE. È una scheda SIM illimitata. Vi consiglio comunque di dare un'occhiata alla copertura della vostra SIM prima di acquistarla per evitare spiacevoli inconvenienti. Ci dà la copertura 3G, 4G, 5G in Trento. In basso a destra ci sono i vari colori così a colpo d'occhio potete già dare un'occhiata. Vi faccio vedere zoomando indietro. Una parte della città è coperta dal 5G ma andando a zoomare poi, come potete vedere, non tutte le zone sono perfettamente coperte. 4G plus non è proprio, devo dire, capillare. Nella mia zona ho dato un'occhiata, ho la copertura massima con il 4G, per cui devo dire, non posso del tutto lamentarmi. Qui inoltre potrete mettere la vostra città. Ad esempio simuliamo Milano. Qui già come vedete la presenza del 5G è molto molto più efficiente e capillare. Anche in una versione italiana comunque potete vedere che è presente veramente ancora in pochissime zone. Beh ragazzi, adesso voglio sapere la vostra. Cosa ne pensate di questo Fritzbox LTE? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Nei prossimi video vedremo come fare un upgrade e migliorare la qualità del segnale. Per cui cosa aspettate? Iscrivetevi al canale e attivate la campanellina. A questo punto non mi resta fra l'altro che salutarvi da Fritzbox. Allora, te che era tutto. Noi ci vediamo in un prossimo video. Ciao! Ciao!